Cari amici, ben trovati! Oggi andiamo a scoprire insieme una fisarmonica Scandalli. Scandalli modello Ayr Junior. È una 34-72. 34 tasti dalla parte del canto e 72 bassi. Vediamo insieme le caratteristiche partendo dalla parte destra. Troviamo 9 registri. La fisarmonica è con il musette. Se mi fai un primo piano, ecco, lo strumento è in quarta e quinta. Vediamo insieme le misure del tasto. La larghezza è di 19 mm. La misura della tastiera è di 38,5 cm. Esternamente 42 mm. Ha una profondità di 19 cm ed un'altezza di 41 cm. La fisarmonica pesa 8 kg e 500 grammi. Dalla parte dei bassi troviamo tre registri. Bassi, color bianco, madre perla. Nella parte posteriore troviamo un morbido cuscino con la S di Scandalli. La chiusura del mantici è in cuoio e velluto. Il manale, tutto cuoio. Con l'intarzio, Scandalli. Sentiamo il suono della Scandalli partendo dal registro master. Scandalli partendo dal registro mappa di tornare. Scandalli partendo dal registro mappa di patria. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.